Un'intera giornata passata al pronto soccorso in attesa di una visita all'anziana madre ottantenne sofferente di una forma di demenza senile. Dieci ore di attesa dalle nove del mattino alle diciannove, più un'altra ora di pazienza per trovare un passaggio a casa da parte della Croce Rossa di Cremona. È l'odissea di un cittadino cremonese sui 50 anni che lunedì mattina si è spaventato, vedendo che la propria madre non riusciva a svegliarsi e a prendere coscienza lucidamente per rimanere in uno stato come di dormiveglia. Stimolata si destava per qualche momento per poi riaddormintarsi, così il figlio ha chiamato la guardia medica e poi preoccupato il 118. Arrivata al pronto soccorso la donna veniva accettata e riceveva il codice d'urgenza giallo descritta in stato confusionale sulla carta d'accettazione. Alle diciannove era ancora lì, monitorata, osservata ma in attesa di una decisione. Era il caso di ricoverare la paziente oppure di metterla? E come prendersi cura dell'anziana signora che rimaneva continuamente nelle stesse condizioni? Come in tanti altri casi, non sono poche infatti in città le persone anziane affette da forme di deterioramento cognitivo o demenza senile. Il figlio non sapeva come comportarsi né a chi rivolgersi. Nei giorni precedenti, dato che la madre era in uno stato d'agitazione, il consiglio della guardia medica è stato di anticipare la somministrazione di un tranquillante prescritto dal medico di famiglia, farmaco che si è aggiunto ad alcune compresse sedative contenenti melatonina. La donna, tornata a casa verso le 8 della sera di lunedì, veniva trattata con fisioterapia senza però ritrovare presenza di spirito e lucidità. Il dormiveglia continuava ancora. Il figlio in difficoltà ha chiesto aiuto ai servizi sociali senza però ricevere alcuna forma di sostegno. La madre viene seguita da una cooperativa che però sabato e domenica non dà servizi e il fine settimana in particolare diventa così un concentrato d'angoscia e di preoccupazione.